Confortevole e funzionale, Citroen C3 Picasso ha uno stile unico ed una struttura caratterizzata da una spiccata ingegnosità. La silhouette essenziale e funzionale mette le sue prestazioni al servizio del benessere, concentrando luminosità eccezionale e massima spaziosità. Grande dentro piccola fuori è pensata per semplificare la vita, ideale per una gita in famiglia. In occasione dell'introduzione delle motorizzazioni PureTech 110 e BlueHDi 100, la gamma C3 Picasso si arricchisce della serie speciale Exclusive Cinema. Questa Special Edition propone contenuti di stile e tecnologia in grado di aumentare la PIL di C3 Picasso, il dispositivo Cinema è dotato di un sistema multimediale, compresa USB e telecomando, che permette di collegare film, musica o foto a due schermi da 16 noni integrati negli appoggiatesta anteriori e alle due cuffie wireless. Il 3 Picasso Exclusive Cinema offre un viaggio piacevole per tutti, grandi e piccoli, anche durante lunghe tratte. La versione Exclusive Cinema si distingue anche per i cerchi in lega 17 pollici clover e soprattutto per l'estetica bicolore, caratterizzata da tetto, calotte degli specchietti e dettagli dei paraurti anteriori e posteriori nero lucido, abbinato alla tinta carrozzeria Argento Madre Perla.